Con determina numero 54 del 15 febbraio 2016 è stata affidata alla Sinergi Italia la realizzazione sul territorio cittadino del comune di Sapri delle case dell'acqua, strutture che consentiranno di erogare ai cittadini acqua naturale gasata, prelevata dall'acquedotto comunale, previo trattamento di filtrazione a carbone attivo ed addizionato con anidride carbonica alimentare. Per utilizzare le casette dell'acqua è previsto l'uso di un'apposita card che consentirà l'erogazione e prezzi vantaggiosi di acqua filtrata, gasata e naturale. Obiettivo non secondario è il notevole risparmio sui rifiuti plastici da smaltire, mentre per i cittadini è la riduzione dei costi per l'acquisto di acqua imbottigliata. La realizzazione delle tre case dell'acqua previste in zona PIP, Piazza Regina Elena e Villa Comunale, ha dichiarato il consigliere Eduardo D'Amico, garantisce anche un vantaggio ambientale enorme che va ad aggiungersi al risparmio economico delle famiglie, sia sul fronte della tassa sui rifiuti, ma anche sul consumo dell'acqua imbottigliata, che si aggira su una spesa media annua di circa 350 euro per una famiglia di quattro persone.